Le strade di Popoli in provincia di Peschiara si sono trasformate in un circuito vibrante, ospitando la seconda edizione di L'eleganza dei kart tra le vie della città, organizzato dall'associazione Street Karting con il patrocinio del comune di Popoli Terme. L'evento ha regalato un pomeriggio di puro divertimento e adrenalina a grandi e piccoli. Guidati dalla presentatrice di la QTV Monica Campoli, piloti di tutte le età si sono sfidati su kart monomarcia e con il cambio, regalando al pubblico presente uno spettacolo emozionante. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione del sindaco di Popoli e degli assessori allo sport, ha sottolineato l'importanza di promuovere lo sport e l'aggregazione nel territorio. L'eleganza dei kart si è confermata un appuntamento imperdibile, capace di unire passione per i motori, voglia di stare insieme e spirito di comunità. Un successo che fa ben sperare per le future edizioni di questa manifestazione, unica nel suo genere.